Traffico illecito di rifiuti speciali in discarica abusiva. Con questo atto d'accusa sono stati rinviati a giudizio a vario titolo l'amministratore unico dell'Express, società che gestisce l'aeroporto dei parchi di Pretura all'Aquila, Giuseppe Domizio Musarella, il direttore commerciale Ignazio Chiaramonte, l'ingegnere comunale Mario Corridore, il responsabile per l'ufficio sviluppo dello Scala Aquilano Piero Negrini, socio e comandatario della società Delta Impianti, Rachele e Antonio Lunari, amministratore unico e titolare della dittono monima di trasporti. In particolare Musarella, Corridore e Chiaramonte, come scrive il messaggero, ricevevano i materiali facendoli scaricare nella zona nord dell'aeroporto di Preturo con Negrini e Lunari, invece accusati di aver trasportato e scaricato i rifiuti speciali. Il processo è stato fissato a maggio 2017. A fine 2014, Forestale, Finanza e Polizia eseguirono dei decreti di sequestro preventivo emessi dal GIP e dal Tribunale dell'Aquila Guendalina Buccella, nonché un decreto di sequestro provatorio di una parte dell'area interna all'aeroporto, di proprietà del Comune dell'Aquila e gestita dalla società Xpressa, di sei autocari di proprietà delle due ditte coinvolte nell'inchiesta, oltre che di beni della Xpressa, per un valore di 36.000 euro. I provvedimenti sono giunti al termine di una lunga indagine, durata diversi mesi, e mirata alla verifica delle procedure di smaltimento dei rifiuti. Stando alle risultanze, con mezzi pesanti appartenenti alle ditte Delta Impianti dell'Aquila e Lunari SRL di Rieti, erano stati illecitamente trasportati, scaricati e smaltiti, senza le prescritte autorizzazioni ingenti quantitativi di macerie. L'obiettivo era realizzare a costo zero, grazie ai materiali di risulta che sarebbero poi stati ricoperti, la nuova area di sicurezza di fine pista, avente la finalità di riduzione del rischio per aereo mobili in caso di atterraggio lungo o di uscita fuori pista. Durante la fase investigativa, si è potuto accertare che le ditte di trasporto prelevavano, tramite loro autocarri, da quattro cantieri edili insistenti sui edifici demoliti, terra e materiale di risulta, per poi trasportarlo e scaricarlo all'interno dell'area aeroportuale. Ora il Comune dell'Aquila si è costituito parte civile, chiedendo il risarcimento di 550.000 euro, non solo per il danno di immagine, ma anche perché i lavori di allungamento e completamento della pista non sono mai stati completati. È la terza edizione, ma è forse la più complessa di sempre. Il Festival della Montagna sbarca all'Aquila da venerdì 14 ottobre a domenica 16 al Parco del Castello, per portare non solo la montagna in città, ma anche ospiti, concerti, cultura, enogastronomia e alta cucina e ovviamente tanto sport. Dallo sci invernale, protagonista con la predisposizione di una vera e propria pista insieme a un circuito da sci di fondo, a quello alpino, all'arrampicata sportiva, al trekking, fino al volo libero e al nordic walking. Un menu ricchissimo per vivere e far scoprire la montagna in tutte le sue sfaccettature, grazie alla collaborazione di numerose scuole sci e associazioni che hanno aderito al Festival della Montagna più a sud d'Europa, organizzato dall'associazione Gran Sasso Anno Zero. Come stand abbiamo circa 80 stand, ma al di là degli stand, che sono comunque a contorno di quella che è la manifestazione, come abbiamo detto già in conferenza stampa, il Festival della Montagna sta cercando di aprirsi non solo ai locali, ma anche a un pubblico di fuori. Entrando nel vivo, quest'anno abbiamo sempre l'attrattiva dell'arrampicata, che ospiterà una Coppa Italia, la finale di Coppa Italia qui all'Aquila, con oltre 100 atleti a tutta Italia. In più avremo un'area mountain bike molto più grande, proprio per dare la possibilità a tutti di provare lo sport della mountain bike e poi a contorno anche slackline e discipline minori, tra virgolette. Una grande novità è quella di aver aperto il villaggio al mondo neve, quindi all'attrattiva invernale. Realizzeremo una pista di sci vera e propria di 40 metri lunga, dove le scuole di sci a supporto daranno la possibilità gratuitamente a bambini in prevalenza di provare con delle vere e proprie lezioni di sci, lezioni di sci che si faranno proprio su questa pista artificiale. Grazie a tutti.